Entrate in campo, prima giornata di ritorno del campionato provinciale categoria allievi Girone Chieti tra la Virtus Castelfrentano e l'Ortona Calcio. L'Ortona Calcio, la classica maglia giallo-verde e la Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallo-rossa. Ok ragazzi andate a salutare quelli, c'è tempo anche di fare una foto veloce. Vi ha acchiappato la bolla. Ok, vi volete fare una foto? O la prossima? Vedete l'orologio? Controllate i tempi? Espersi! Sì, sì! Grazie.